Buongiorno e ben trovati con i giornali in edicola, l'appuntamento quotidiano con la nostra rassegna stampa. Tante le notizie sulle prime pagine delle maggiori testate nazionali che riguardano sia la politica internazionale sia la politica italiana, oltre a ovviamente la cronaca. Per quanto riguarda il panorama internazionale, sono i fronti bellici a dominare le prime pagine, sia quello ucraino sia quello medio orientale. Andiamo con ordine. Che cosa è successo ieri in Ucraina? Durante la visita del premier greco Mitsotakis a Odessa, un missile russo è caduto a 150 metri dal convoglio blindato e solo fortunatamente non ha colpito il rappresentante del paese greco, poteva essere l'inizio di una autentica escalation militare. Abbiamo avuto paura, non abbiamo avuto il tempo di rifugiarci e metterci al sicuro. Sono state le parole di Mitsotakis nella conferenza stampa fatta a Odessa con Volodymyr Zelensky, che torna a chiedere misure incisive per poter contrastare la Russia. Mosca di suo ha detto che il raid era invece ben organizzato, non aveva nulla a che vedere con la visita del premier greco e aveva come obiettivo degli hangar ucraini in cui si producono dei droni. Su questo è intervenuto anche il presidente degli Stati Uniti, Biden, che continua a chiedere delle misure più stringenti nei confronti della Russia, soprattutto per esempio il blocco di tutti i beni degli oligarchi di Mosca. Gli Stati Uniti però sono anche al tavolo delle trattative che però al Cairo, in Egitto, hanno raggiunto una fase di stallo. Quindi parliamo della guerra nella striscia di Gaza. C'è la necessità di cessare il fuoco, la richiesta di Hamas che si fermi il fuoco per almeno sei settimane. L'amministrazione guidata da Joe Biden chiede che un accordo venga raggiunto prima di lunedì quando comincerà il Ramadan, che è il mese sacro per gli islamici. Le richieste però di Hamas difficilmente saranno accettate dal premier israeliano Benjamin Netanyahu. Perché? Perché si chiede la liberazione dei condannati all'ergastolo palestinesi, tra cui Borguti, che è stato protagonista della prima intifada, ha fondato Al-Fatah, il partito palestinese, vicino anche ad Arafat. E poi in cambio la liberazione di un primo gruppo di ostaggi, un secondo gruppo, secondo Hamas, verrà liberato quando le truppe israeliane si ritireranno da Gaza. Ricordiamo poi che le rappresentanze israeliane non siedono al tavolo delle trattative. Abbiamo parlato anche degli Stati Uniti perché l'America sta vivendo, gli Stati Uniti stanno vivendo le conseguenze del cosiddetto Super Tuesday, il Super Martedì, le primarie americane, una valanga di consensi per Donald Trump, il ritiro della sua più agguerrita avversaria Nikki Haley, che però detiene un pacchetto di voti che oscilla tra il 20% e il 30%, che metterà a disposizione addetto per chi la convincerà. E questo è un messaggio, secondo gli analisti americani, anche a Joe Biden, che seppur, diciamo così, osannato dalla sua coalizione, è in affanno rispetto al tycoon, che ora punta all'appoggio di Elon Musk, il patron di Tesla. Questa è la politica internazionale, per quella italiana invece i temi sono essenzialmente due, l'inchiesta di Perugia con i presunti dossieraggi ai danni di politici e personaggi pubblici e anche le elezioni in Abruzzo. Andiamo con ordine perché è grave, è un fatto particolarmente che lascia sgomenti, così l'ha definito la Premier Giorgia Meloni. Ieri il procuratore nazionale antimafia Melillo è stato ascoltato in commissione antimafia, quella prosieduta da Chiara Colossimo. Secondo Melillo è impossibile che l'unico finanziere indagato abbia potuto agire da solo e ha difeso l'operato dell'ente della struttura antimafia che guida, che è finita anche nel vortice del polemiche. Oggi sarà ascoltato il capo della procura di Perugia, Cantone. E poi la politica che vede ancora le contrapposizioni tra Fratelli d'Italia e la Lega, la Lega che ha osannato Trump e che invece ha preso le distanze o è rimasta più equilibrata a Fratelli d'Italia, anche perché ieri è stata osannata Ursula von der Leyen come candidata per il PPE. Questi sono i temi che troviamo sulle prime pagine che però sfiorano anche lo sport con Carlo Ancelotti accusato dalla procura spagnola di frode fiscale per alcuni diritti d'immagine non dichiarati con un sistema ben articolato di società. Queste sono le notizie che troviamo sulle prime pagine. Cominciamo a guardarle insieme partendo come sempre dal Corriere della Sera. Zelensky sfugge alla morte. L'apertura del giornale di Via Solferino è dedicata a quanto accaduto ieri ad Odessa. Missile russo a 150 metri dal corteo presidenziale. Cinque le vittime. Il leader ucraino stava per incontrare il premier di Atene, Mitsotakis. Ecco con chi abbiamo a che fare. Sono state le sue parole. Però dobbiamo anche considerare che il prossimo 17 di marzo ci sarà l'elezione in Russia. Ieri c'è stato un appello della moglie di Navalny. Alexei Navalny è morto la scorsa settimana. Ci sono stati anche i funerali che hanno mobilitato molti russi che hanno sfidato il regime e la polizia russa che li ha identificati. Andiamo tutti andate, tutti a votare. L'appello della moglie di Navalny il prossimo 17 marzo tutti alle urne, alle 12 scrivete qualsiasi cosa sulla scheda purché non vinca ovviamente Putin. Questa è la richiesta della vedova di Navalny che non è potuta rientrare in patria per partecipare ai funerali del marito perché è considerata una sibia e rischierebbe l'arresto. ma ieri ha fatto discutere anche un'altra decisione di Mosca quella di inserire nel gruppo dei terroristi ricercati il maestro degli scacchi Kasparov. Il Corriere della Sera sempre in prima riporta quanto avvenuto ieri in commissione anti-mafia ma anche riporta l'incontro della Premier lo vedete di spalla allerta di Meloni brutto clima l'idea del daspo per le piazze perché? Perché ieri la Premier Giorgia Meloni ha incontrato i sindacati di polizia dopo quanto accaduto a Pisa nelle scorse settimane lo ricorderete la carica della polizia sugli studenti che stavano manifestando per chiedere la pace in Palestina e in Israele 17 gli alunni che sono rimasti contusi e feriti tante le polemiche c'è stato anche l'intervento del capo dello Stato Sergio Mattarella però ieri la Premier incontrando i sindacati di polizia ha ribadito che c'è una campagna denigratoria nei confronti delle forze di polizia una campagna che secondo la Premier serve a delegittimare il suo operato attaccano voi in realtà vogliono attaccare me dichiarazioni che hanno creato ovviamente scompiglio e polemiche con il centro-sinistra e soprattutto la segretaria del PD Elislein che è andata al duro attacco della Premier anche cogliendo l'occasione delle elezioni in Abruzzo domenica si vota Marsiglio candidato uscente e sostenuto da Fratelli d'Italia contro D'Amico che è sostenuto da una coalizione che vede tutti insieme il Movimento 5 Stelle ed il Partito Democratico in prima ovviamente abbiamo la Trump che stravince nel Super Tuesday e poi il dossier sentito appunto Melillo spiati non può essere stata l'opera di un singolo e riporta anche l'indagine a carico del numero 1 della Federcalcio Gabriele Gravina che ieri accompagnato dai suoi legali ha raggiunto la procura di Roma scoprendo che è indagato per autoriciclaggio per una compravendita e presunti affari sporchi andiamo a vedere Repubblica come sceglie di aprire USA Valanga Trump le primarie in America l'ex presidente repubblicano sbanca il Super Tuesday e le rivali Halley si ritira dalla corsa per la Casa Bianca i suoi voti fanno gola a tutti anche i democratici lo dicevamo Biden ha dominato il suo campo ma la strada è in salita il PPA lancia invece Ursula von der Leyen e apre a destra ovviamente torniamo in Europa perché a Bucharest ieri c'è stata appunto acclamazione del presidente della commissione europea viene chiamata Spitzenkandidaten e la scorsa settimana proprio a Europa è stato invece per il PSE scelto Schmidt no all'ingresso di Fratelli d'Italia che cosa vuol dire che adesso la premier Meloni che si è accreditata a livello europeo come leader in qualche maniera diciamo così non più esposta all'estrema destra o comunque mantenendo buoni rapporti con la Polonia e l'Ungheria non c'è l'apertura del PPA all'estrema destra e si pone come argine alle forze estremiste il giornale guidato da Molinari però non dimentica quanto accaduto ieri in commissione antimafia e di spalla mette il caso Gravina con la procura di Roma che lo indaga e le dichiarazioni del procuratore antimafia Melillo con lo spionaggio di una gravità inaudita naturalmente Repubblica non dimentica la politica estera e lo fa con una foto a centropagina che vede Volody Merzeleschi ed il premier greco Mitsotakis che solo per miracolo lo abbiamo detto hanno evitato una escalation hanno evitato di essere colpiti da un missile russo e poi l'allarme di Meloni per il G7 c'è un clima preoccupante lo sapete il G7 a giugno sarà ospitato dall'Italia nello specifico a Fasano in Puglia in provincia di Brindisi e questo clima preoccupante è legato a quanto successo a Pisa e soprattutto a questo anni bui che la Premier ieri ha in qualche maniera ricordato incontrando i sindacati di polizia andiamo a Torino andiamo a vedere la stampa come apre missili sulla nave greca ma rosso di sangue il riferimento e all'attacco degli uti che sono gli estremisti e i dissidenti iemeniti che hanno colpito un cargo greco due morti tre dispersi e cinque i feriti poi bombe russe su Odessa sfiorati Zelensky e il premier ellenico Mitsotakis ma c'è anche spazio per la politica internazionale con lo sguardo rivolto agli Stati Uniti all'esito delle primarie al super Tuesday che ha incoronato Trump Biden si difende però la strada è in salita e la campagna elettorale si diciamo così presenta abbastanza spinosa per il presidente uscente però sulla prima pagina della stampa troviamo anche quanto è avvenuto ieri in commissione lo vedete nella parte del giornale che solitamente è dedicata all'editoriale Melillo il caso Dossier Striano che è finanziario indagato non agito da solo Gravina è indagato con l'accusa di autoreciclaggio e poi ancora Meloni e Poliziotti clima da anni bui riferimento all'incontro della premier con i sindacati di polizia di spalle invece troviamo tutta una serie di articoli che la stampa dedica all'otto marzo alla giornata che vuole ricordare la strage delle donne avvenuta proprio l'otto marzo e le donne fuori dal lavoro Italia maglia nera dell'Unione Europea la rete otto marzo noi e il Me Too a Torino il Me Too lo ricorderete è quel movimento che è nato negli Stati Uniti da tutte quelle donne specie del mondo della cinematografia che sono state vittime di abusi da parte di produttori o registi e hanno dato vita a un movimento che poi è diventato di carattere internazionale però la prima pagina della stampa non dimentica appunto anche quanto accaduto in provincia di Asti dove Macca una donna di 18 anni ha ucciso il suo papà perché stanca delle continue violenze a cui era sottoposta la mamma il giornale di Torino ieri ha pubblicato lo stralcio di alcuni diari che la donna aveva scritto la 18 anni aveva scritto raccontando le violenze e temendo che i fratelli che assistevano alle continue aggressioni fatte dal papà ai danni della mamma potessero prendere come esempio quest'uomo di 50 anni e quindi lei scriveva prima o poi lo ammazzo perché ho paura possa uccidere la mia ragione di vita così aveva definito la mamma andiamo a vedere il quotidiano dei Vescovi come apre avvenire il Sud chiama il riferimento e alla pesante nota dei Vescovi siciliani che bocciano il DDL Calderoli sull'autonomia differenziata perché l'unità nazionale è a rischio sull'autonomia differenziata e criminalità organizzata risuona un doppio allarme del Meridione ieri in poi eseguiti due fermi per l'omicidio del sindacalista amico Geraci avvenuto 25 anni fa ieri c'è stata appunto da parte dei Carabinieri la notifica in cascere dei presunti esecutori ma soprattutto è venuto fuori che il mandante sarebbe stato Bernardo Provenzano e poi questo fatto di cronaca è l'occasione per l'avvenire di ricostruire un po' quello che sta avvenendo in Sicilia con la mafia scrive il quotidiano che si sta riorganizzando ovviamente il giornale non dimentica i fatti di cronaca non dimentica Gaza non dimentica il Super Tuesday infatti Gaza senza tregua acqua e cibo 5 mesi di striscia 5 mesi di guerra nella striscia e c'è l'SOS di Caritas Gerusalemme che appunto fa un bilancio di quanto sta accadendo alla luce anche della costruzione da parte del governo Netanyahu di 3500 abitazioni in Cis Giordania e poi sempre in centro pagina quello che è il report dell'Istat un mezzo passo avanti su povertà e disuguaglianze e il report sulle decontribuzioni su quanto avviene anche con il nuovo assegno il sole 24 ore Borse e Massimi e Cina in ripresa il giornale di Confindustria analizza i titoli che in borsa stanno andando bene ma ci sono anche appunto la crescita di molte borse come per esempio Piazza Affari che sta registrando un segno più e poi invece un'analisi sull'olio extravergine di oliva che costa troppo e un italiano su tre non lo compra più con una decrescita del 30% degli acquisti e poi come taglio laterale le telecomunicazioni nuove regole sblocca reti e sanzioni di spalla ovviamente Melillo il procuratore antimafia ha ascoltato l'azione di Striano non sono individuali e poi il missile russo che esplode vicino all'auto con Zelensky il messaggero apre sul Super Tuesday Trump e Biden la sfida bis per la Casa Bianca trionfo alle primarie Halley si ritira ed è caccia ai voti di taglio alto però abbiamo anche quanto accaduto nel Mar Rosso quindi l'attacco Uti al cargo ma anche la sfida con appunto quello che avviene appunto nel Mar Rosso la sfida alle potenze che appoggiano Israele e poi ancora il tavolo della Premier con i sindacati di polizia la polizia denigrata ed il G7 avverrà in un brutto clima e poi il mercato dei dossier illegali con l'ascolto del capo della procura antimafia Melillo in commissione antimafia che ha sostenuto lo abbiamo visto finora l'impossibilità che l'unico finanziere indagato abbia agito da solo il mattino di Napoli invece apre con i dati riservati c'è un mercato quindi il caso dossier il procuratore antimafia strano non può aver agito da solo ma è l'indagine a carico del numero uno della feder calcio per autoriciclaggio in un'inchiesta parallela Biden Trump nelle loro mani il futuro dell'America ma invece a centropagina troviamo la restituzione a Napoli dell'opera del pistoletto che era stata bruciata nei mesi scorsi ed è stata riconsegnata e il pistoletto lo sapete è un artista che va a diciamo così unire l'arte al riciclo e quindi la venere degli stracci ritorna blindata in piazza municipio il resto del carlino il resto del carlino Melillo accusa c'è il mercato dei dossier il procuratore antimafia in commissione Stiano non agiva da solo ma c'è un sistema il centrodestra all'attacco fuori i mandanti indagato il presidente della FIGC gravina soldi per una casa a centropagina troviamo Zelensky con il premier greco Missotakis che sono entrambi sfuggiti all'attacco di un missile russo ma il resto del carlino per celebrare la donna ospita un'intervista alla prima magistrata antimafia Teresa Principato la parità le dice mai raggiunta questo è quello che troviamo sul resto del carlino invece l'eco di Bergamo tocca un tema che è essenzialmente locale riguarda l'allarme droga nella bassa con la cocaina che ha fatto registrare un consumo triplicato un'indagine è stata condotta nella bergamasca sull'uso di cocaina che riguarda non soltanto la Bergamo bene ma anche soprattutto i più giovani però il giornale di Bergamo non dimentica la politica internazionale con Zelensky lo vedete in taglio alto che ha scampato ad un attacco e poi i titoletti sempre alti riguardano l'escrizione alle scuole superiori e il calcio con l'Atalanta che domina andiamo a sud con l'edicola del sud che dedica la prima pagina alle donne con un editoriale della sua direttrice Anna Maria Ferretti c'è ancora un domani va a parafrasare così il film diretto da Paola Cortellesi e dice e noi ci siamo invece la gazzetta del mezzogiorno apre sulle emissioni dell'ex Silva con l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia Lucia Morselli che è sotto inchiesta perché ci sono state delle verifiche dei carabinieri del NOE che è il nucleo operativo ecologico e sugli sforamenti denunciati anche da Pislink l'associazione ambientalista con i livelli di benzene e polveri sottili che sono state superiori rispetto ai mesi precedenti e che sono stati in continua crescita per cui secondo l'associazione ambientalista Acciaieria d'Italia non avrebbe messo in campo tutte quelle azioni che avrebbero potuto contenere le emissioni di polvere sottili però sulla prima pagina troviamo anche l'abbiamo visto in taglio alto il quanto accaduto all'Amtab la scorsa settimana oltre 130 arresti da parte della DDA e della squadra mobile su un presunto intreccio tra mafia e politica cittadina i clan decidevano le assunzioni nella municipalizzata che a Bari si occupa di trasporto pubblico e Bari resta in prima pagina con le primarie del centro-sinistra con i candidati Michele Laforgia e Vito Leccese che stanno lavorando per definire le regole ma anche qui è tutto in salita andiamo a vedere invece il quotidiano diretto da Roberto Napoletano le parole di Gaber perché ma cos'è la destra cos'è la sinistra vengono usate per il primo anno di governo della Meloni che riduce il rischio povertà e la disuguaglianza scrive Napoletano ti viene il dubbio che la destra è di sinistra e che la sinistra è di destra con 21 miliardi su 30 tutti a favore dei ceti deboli la nuova destra di governo non immune da altri eroni ha mantenuto una coerenza sistemica di politica economica facendola crescere questo è l'analisi del quotidiano diretto da Roberto Napoletano che però in prima appunto parla di povertà e disuguaglianza in calo con assegno unico e decontribuzione ed è lo studio fatto dall'Istat che abbiamo visto anche in prima pagina su Avvenire e che appunto va a vedere come l'assegno unico ha inciso sulla politica economica italiana e come sempre con il quotidiano del sud finisce l'appuntamento con la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per l'attenzione vi auguro buona giornata e vi lascio in compagnia dei programmi della rete